Ciao ragazze, allora nuovo video, ho pensato per questo video di farvi una recensione un po' particolare che non ho mai fatto sul canale, soprattutto perché solo ultimamente mi sto appassionando tra virgolette o comunque sono stata un pochettino costretta ad appassionarmi alla pulizia della casa infatti come sapete se mi seguite su Instagram ma anche qualche vlog precedente sto facendo dei lavori a casa sia dentro che fuori mi sono messa alla ricerca di alcuni prodotti un po' più universali che magari mi sarebbero serviti in bagno, come in cucina, come magari nella sala e nel vedere varie recensioni su internet ho visto che da Lidl esce periodicamente un prodotto molto particolare e come vi ho detto anche prima lo definisco assolutamente universale perché comunque si può utilizzare in tantissime parti della casa come nel lavandino del bagno, in quello della cucina, sui fornelli e soprattutto sulle parti di acciaio questo qui che tantissime persone, tantissime mamme, donne o ragazze come me lo utilizzano è della marca V5 che è la marca specifica di Lidl che si occupa soprattutto della pulizia questa si chiama Cleasing Past with Sponge infatti nella confezione è compresa anche questa spugnettina bianca in poche parole questo è un barattolone così grande che contiene 500 grammi di prodotto e dentro c'è questa pasta bianca stranissima si bagna la spugnettina con dell'acqua, si preleva il prodotto va ad eliminare lo sporco poi magari vi lascio qualche close up dove vi faccio vedere come lo utilizzo passandolo sopra una qualsiasi superficie che può essere marmo, acciaio poi l'ho passata anche sulla mia fedina e è diventata nuova lascia appunto questa patina bianca che sembra quasi polverosa, molto polverosa io la lascio di solito agire per qualche secondo poi vado a rimuovere tutto il residuo la superficie in questione e ragazzi è pulitissima anche nei fornelli se magari c'è qualche macchia di sugo è molto veloce bagno la spugnetta, prendo il prodotto, metto su, rimuovo e la superficie torna praticamente nuova io sinceramente quando sentivo queste recensioni di queste persone che dicevano no io la utilizzo dappertutto, rimuove tutto ero un po' scettica soprattutto a livello di prezzo perché questa confezione da 500 ml viene solo 2,19€ e naturalmente ha anche la spugnettina in dotazione che poi voi comunque potete magari cambiare e utilizzare una per il bagno, magari ne acquistate qualcuna una per la cucina sull'acciaio dà più un effetto subito di pulito un piano cottura pulito con questo torna come appena acquistato e infatti elimina calcare, sporco e grasso pulisce, lucida e preserva acciaio inox, cromo, oro, argento, plastica addirittura le piastrelle anche per pulire il marmo del lavandino del bagno e poi è biodegradabile il concept del prodotto che con questa confezione posso pulire tutta la casa mi piace tantissimo bagnare la spugna in dotazione strizzarla e strofinarla sulla pasta bianca fino a creare una schiuma sì, in effetti appena la spugnetta bianca va sulla pasta tende a fare un pochettino di schiumetta ma comunque potete regolarvi voi quanto bagnarla, quanto strizzarla avere più o meno concentrazione di prodotto sulla spugnetta stessa passare il prodotto sulla superficie da pulire quindi asciugare o risciacquare io sinceramente preferisco sempre un po' risciacquarla perché soprattutto se ho messo tanto prodotto tende a rimanere appunto questa patinina bianca chiudere bene il barattolino dopo ogni utilizzo sinceramente no nel senso che io appena l'ho utilizzato la pasta bianca tenderà sempre a rimanere un pochettino bagnata quindi io metto la spugnetta sopra così il coperchietto vicino e lascio un po' evaporare dopo un'oretta rimetto dentro e chiudo contiene argilla naturale, sapone e glicerina proprio perfetto so che tantissime di voi perché me l'avete scritto anche nelle instagram stories l'hanno provato fatemi sapere su quale superficie voi preferite utilizzarlo e se naturalmente vi è piaciuto se lo volete acquistare vi consiglio di guardare il volantino Lidl o comunque o l'app o qualunque o il sito e quando esce perché comunque è stata un'edizione limitata è fine assaurimento scorte prendetene almeno uno o due barattoli cioè nel senso io ho fatto così ne ho sentito parlare bene l'ho acquistato un barattolo perché ho pensato dai per due euro alla fine spendo tanti soldi in tanti altri detersivi perché non dargli un'opportunità e il giorno dopo per paura che terminassero sono tornata da Lidl e ne ho preso un altro perché mi sono trovata benissimo già dal primo utilizzo vanno a ruba sono molto sincera spero che lo mettono in gamma permanente perché veramente è uno di quei prodotti che ormai almeno per me è diventato indispensabile anche perché ho notato che mi diminuisce il tempo per pulire cioè sono contentissima ecco è stata davvero una bellissima scoperta bene ragazze con questo è tutto mi raccomando un bel pollice in su al video se vi è piaciuto fatemelo come sempre sapere nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video un bacione ciao